MAMnews.it, il nostro portale che da qualche mese è diventato un fondamentale punto di riferimento. Curato nella grafica e ricco di notizie, sempre più aggiornato e cliccato. Per questo motivo abbiamo deciso di inserire le notizie più importanti che trattiamo all'interno del nostro settimanale Mnews. Questa settimana vediamo i servizi che potrete seguire. È stato definito il terremoto di Natale, quello politico naturalmente che si è consumato a Monte Corvino-Rovella, con le dimissioni a raffica di alcuni componenti della maggioranza, creando così lo scioglimento del Consiglio Comunale a sole due anni di vita amministrativa guidata da Giuseppe D'Ajutolo. Rimaniamo ancora a Monte Corvino-Rovella per parlare di crisi finanziaria che attanaglia da tempo anche il settore economico. Da città delle discariche a città virtuosa, Giffoni-Vallepiana premiata a Napoli da Lega Ambiente, Comune Riciclone. L'ambasciatore della Repubblica del Burundi è stato in visita nel territorio bicentino, facendo tappa anche nella famosa città del cinema per ragazzi. Con il GAL Colline Salerditane alvia la manifestazione Natale a Giffoni, con i caratteristici mercatini di Natale, degustazioni di prodotti tipici e animazione per bambini, ed anche per queste festività di fine anno le tasche dei cittadini sono sempre più vuote. Divino Natale, la singolare manifestazione si è tenuta presso l'antica ramiera di Giffoni-Vallepiana. A Monte Corvino-Rovella un perfetto connubio tra il teatro e l'arte presepiale. Domenica 23 dicembre alle ore 19 ritornano i bravi ragazzi dell'oratorio Michele Poppiti di Olevano sul Tusciano. Domenica 23 dicembre alle ore 19 ritornano i bravi ragazzi dell'oratorio di Natale a Giffoni-Vallepiana.